Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Alessandro e oggi voglio mostrarvi il gameplay di X, titolo attesissimo su Wii U. Questo video di due minuti circa, visto durante l'ultimo Nintendo Direct, ci mostra l'action RPG sviluppato da Monolith Soft. Ovviamente la qualità video non è delle migliori, ma dalle immagini in game viste di recente si può notare un'ottima qualità. Lo stile dei combattimenti sarà molto simile a quello di Xenoblade Chronicles e con un open world e la possibilità di guidare, magari anche potenziare, scegliere armi, colori e tipologie dei vari mech che saranno i robot che guideremo, sarà la ceresina sulla torta di un titolo che promette molto bene. Vi lascio alle immagini e vi ricordo nei link qui sotto di iscrivervi alla pagina Facebook perché ci divertiamo un casino e di seguire anche il blog dove metto sempre notizie aggiornate sui videogiochi. Al prossimo video! Al prossimo video! Al prossimo video! Al prossimo video!